Buonasera, buonasera e benvenuti nel salotto delle celebrità. dove si svolgono le audizioni nazionali dirette di casting ufficiali legate a Sanremo New Talent, il Singer Contest numero uno in Italia. Questa sera coloro che si esibiranno qui poi potranno prendere parte alle finali nazionali di settembre all'altro mondo studios. Come sempre una giuria di grande qualità la nostra con in testa il maestro d'orchestra del festival di Sanremo, maestro Vince Tempera, al quale dedicherei un bellissimo applauso. E ancora al suo fianco il produttore tv, nonché patron del concorso, Davis Paganelli. Ma prende parte alle votazioni anche il coreografo regista di fama internazionale Alex Leardini. Vi ricordo che Sanremo New Talent è il vero, Sanremo New Talent è l'originale, è il più imitato e permette poi al vincitore di conquistare un premio in notorietà, in visibilità pari a 20.000 euro. Ma non solo, ci sono anche altri premi in palio come il premio Kids, il premio Silver, quello Giovani, il premio Platinum, premio Junior, premio TV e premio Cantautori. Questa sera ad accompagnare gli artisti c'è anche Miss Principessa d'Europa 2023, Aymara Gavillucci. Si presenta con un inedito ed è Fulgarite. Ciao. Buongiorno. Buonasera Fulgarite. Titolo dell'inedito. Sparami. 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 E tu vorresti vivere dove tutti ti giudicano dove se fai un errore poi tutti ti puntano allora dimmi un po' sto aspettando la risposta e non voler scommettere perché è tanto alta la posta. Sono l'esempio di chi è stato distrutto, sto ancora in piedi e sto partorendo il frutto della futura prole che non vorrà più cadere alla generazione che... E se il mondo non ti cambierà che cosa lo farà? Allora sparami addosso e vedi cosa non li ucciderà? Cosa non ti cambierà? E alla fine cosa cambierà? Se il mondo è solo un posto che non ci sa idea? Allora sparami e proprio buon pranzo a... E alla fine che cosa farai? Sarai cambiata e non lo saprai... Ma lo diceva l'amore come il frigo che se non ti ucciderà un giorno si venticherà? Allora crediti che sono io quella verità... E se qualcuno si avvicina a non ti terrorizzare non lo fa per amore ma perché vuole catturare la parte più fragile del tuo tumore... E se il mondo non ti cambierà che cosa lo farà? Che cosa lo farà? Allora sparami addosso e vedi cosa non mi ucciderà... E alla fine cosa cambierà? Se il mondo è solo un posto che non ci salverà... Allora sparami e proprio buon pranzo a... E alla fine che cosa farai? Sarai cambiata e non lo saprai... E se la vita ti sorride ci sarò io qui per te... Che proteggerò tutte le tue vittorie... E se il mondo non capisce ci sarò io qui per te... Che proteggerò il tuo cuore... E se il mondo non ti cambierà che cosa lo farà? Allora sparami addosso e vedi cosa non mi ucciderà... Fulgarite è il suo inedito sparami... Ehi tu dico a te... Sei un cantante interprete o un cantautore di qualsiasi età? Ti stiamo cercando... Audizione online gratuita e immediata... La prossima star potresti essere tu... Candidarsi è semplice... www.starremonewtalent.com Grazie a tutti!